Questo video non ve lo potete perdere, annaggia, signor, più piano, per nulla al mondo, perché la signora Teresa sta facendo la carbonara. Cioè, signore Teresa, che sta mettendo? Eccolo là, un guindale di burro, la nocciolina di burro, l'ha insegnata Chef Ruffi, e poi si devono dalle martellate, la signora, perché la carbonara viene bene oltre 140 decibel. La signora ha scoperto questa cosa, adesso vediamo se le possiamo dare ragione, oppure no. Comunque, metta a soffrire qua queste, il burro, la cipolla, la pancetta, ah, ecco qua, gli spagueti, subito. Due spagueti, la parrucca di Enzo Paolo Turchi, tre, quando signora? Signora, ma l'uovo, la crema di uovo, il guangiale, cioè, queste cose non le mettiamo, forse mette la versatile dopo, non lo so. Vabbè, che sta facendo? Agire col cucciaio, non ci spadelliamo noi, col cucciaio, ma anche con la forchetta. Gli spagetti si girano col cucciaio. Bella, nemici, signora, queste altre tre, quattro botte, e l'uovo, è caduto là, bella, è caduto il guscio, signora, due uova, poi tre uova, Così, senza sbatterle prima, perché ci tiene la signora, questa è la garbo amara, proprio, un'amarezza, proprio, signora, ma lei lo sa che, questi sono crimini, lei perché sa, giustamente, nel Sud America, e allora, cosa mai possa, però, in Italia sono crimini, signora, noi ve lo diciamo. Un po' di via cal, la signora è fissante, la signora, la signora ci tiene all'igiene, dopo che una volta è entrata una blatta nel suo piatto, da allora in poi, proprio, via cal, sempre, sempre, e sbatterla dentro, così gli spezza anche gli spaghetti, che avete sempre da ridire, eh, la signora, tutto quanto spezza negli spaghetti, la signora non gli spezza gli spaghetti, vedete, la signora li ha cotti gli spaghetti, anzi, li ha stracotti, per le male lingue, guardate che bella cremina che si sta formando, come deve essere la carbonara, tutta rappresa, l'uovo si sta fuocendo, come la carbonara comanda, insomma, guardate là, bellissimo, la vina vi ha un potere attaccante minore di questa roba, ma è, insomma, è una cosa normale, poi ci mettiamo anche un po' di ceneri, quello purtroppo il nonno ha detto, io voglio essere cremato, e devi mettere le mie ceneri in una carbonara fatta bene, eh, giustamente la nipotina, cosa poteva fare, se non esaudite le ultime volontà del nonno centenare, quindi ha fatto queste cose qua, eh, no, no, signore, per carità, quella si deve sempre, no, no, e speriamo che suo nonno sia contento, anche se, insomma, con questa, con questa preparazione ho i miei dubbi, signora, ma non l'assaggia, lei di solito mangia, faccia vedere come assaggia questa grande carbonara, carbonara con le ceneri di nonno, signore, ben!